Buongiorno, buon sabato 16 gennaio dalla rassegna stampa di Omnibus, fra poco la lettura dei giornali iniziando dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. I temi portanti sono sicuramente quello legato all'attuazione del nuovo DPCM che diventa operativo già da oggi, poi domani l'ordinanza del Ministro della Salute e Speranza ricolorirà praticamente l'Italia intera con due regioni più, la provincia e Bolzano in zona rossa, 12 in zona arancione e soltanto 6 in zona gialla. Chiaramente si parla anche della crisi di governo perché quello che stiamo per vivere è un fine settimana di grandi trattative, di intense consultazioni. La maggioranza è il Premier Conte che cerca di trovare i numeri per quello che sarà il passaggio parlamentare, lunedì alla Camera e poi quello sicuramente più dedicato al Senato dove insomma si cerca un supporto per mantenere in vita appunto la maggioranza. E c'è ovviamente grande discussione attorno a questo tema con le opposizioni naturalmente che insistono nel chiedere il ricorso al voto. Ma andiamo a vedere come i giornali oggi appunto affrontano questi argomenti centrali. Iniziamo, eccolo qui, il Corriere della Sera, come vedete il taglio centrale dedicato proprio al decreto, zone rosse, proteste e ricorsi. Il decreto sì alle seconde case anche fuori regione, meno dosi di vaccino dalla Pfizer, lira di Roma, questo è un argomento che poi approfondiremo. L'Italia torna divisa in tre colori, la Lombardia si oppone punizione immeritata. Dunque, tornano le zone rosse, da domani stretta in Sicilia, Lombardia e provincia di Bolzano, 12 regioni come vi dicevo in fascia arancione e 6 in gialla, ma scoppia la rivolta. Il governatore Lombardo Attilio Fontano annuncia rincorso, la nuova ordinanza autorizza gli spostamenti nelle seconde case anche se fuori dalla regione. Su fronte ai vaccini Pfizer fa sapere che consegnerà all'Italia 136 mila fiale in meno alla settimana. L'Ira di Roma, c'è stato l'immediato intervento del commissario straordinario Domenico Arcuri e anche l'intervento da Bruxelles della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha contattato i vertici di Pfizer. Pare sia un rallentamento solo limitato nel tempo e tecnico per consentire all'azienda di continuare a produrre vaccino a pieno ritmo. Per quanto riguarda invece la crisi di governo andiamo a leggere cosa scrive oggi il Corriere della Sera in prima pagina perché ora Italia Viva apre, no, DPD e 5 Stelle, Conte Labura a un nuovo gruppo centrista. Titolo che prende spunto dalle parole di Matteo Renzi che in un qualche modo riapre alla possibilità di un dialogo anche se poi due partiti di maggioranza, il Partito Democratico e 5 Stelle, attraverso le dichiarazioni di Zingaretti e Vito Crimi, del reggente politico del Movimento 5 Stelle, insomma escludono questa possibilità. Allora leggiamo qui, dopo lo strappo con il governo, Italia Viva riapre il dialogo per tentare un accordo in estremis prima del voto di martedì al Senato dove ha annunciato che si asterrà. Secco nodo del PD, i nodi restano. Lo stop arriva anche dal Movimento 5 Stelle per i premi di Giuseppe Conte, si fanno avanti i centristi, nasce il gruppo MAI Italia 23 che già conta 5 senatori. Insomma l'argomento poi l'abbiamo dibattuto ampiamente in questi giorni, è quello appunto dei cosiddetti responsabili che andrebbero a colmare il vuoto di voti in Senato lasciato appunto da Italia Viva. Sempre sulla crisi di governo, qui il secco incipit del commento di Antonio Polito, alla fine l'unica domanda che conta è questa, il prossimo governo sarà migliore per chi non segue le evoluzioni acrobatiche di Clemente Mastella e non ha tempo per stabilire l'esatta latitudine dell'UDC, per chi più prosaicamente ha passato il venerdì aspettando di sapere se fare la spesa per il suo ristorante o se i figli vanno a scuola lunedì, ciò che importa è la qualità delle idee della squadra che ci guiderà nei prossimi mesi di emergenza. Ma non sembra che questo sia al centro della crisi, questo è il caustico commento di Antonio Polito. E poi Gian Antonio Stella che ci racconta un retroscena di tanti anni fa, è colpa mia, mi dispiace, a proposito dei cosiddetti responsabili. Era inconsolabile quella sera del 94 il senatore a vita Carlo Bò, un voto in più il suo sarebbe bastato a eleggere alla presidenza del Senato l'amico Giovanni Spadolini. Mi aveva chiamato anche stamattina per sapere se ce la potevo fare ed essere presente, ma proprio non me la sentivo. Sa essere spietata la politica quando il destino di un uomo, una maggioranza, una legislatura, un'intera stagione politica può restare appesa in certi momenti di passaggio ad una miserabile manciata di voti. Questo è quanto scrive Gian Antonio Stella oggi sulla Corriere della Sera. Di spalla, vi segnalo questo articolo, affirma Roberto Saviano, il Covid è noi, così l'usura delle mafie soffoca l'economia. Non c'è più tempo, il denaro è un mafioso, sta erodendo il tessuto economico sano del Paese, non è un iperbole. La crisi generata dalla pandemia sta sgredolando la struttura portante dell'economia italiana. Con questo ci fermiamo, pubblicità e poi la seconda parte della nostra rasegna stampa. A fra poco. Di nuovo buongiorno, proseguiamo la nostra rasegna stampa con la Repubblica, ecco il titolo d'apertura, soccorso bianco per Conte, perché i numeri in Senato ancora incerti. Si tratta per allargare la maggioranza agli ultimi democristiani dell'Udc. Spinte dal mondo cattolico, diversi esponenti di Italia Viva tentati dalla fuga. E Renzi dichiara pronti a discutere senza veti, ma Balazzo Chigi chiude strade divise. Il vice segretario PD Orlando avvisa il Premier, dopo la fiducia serve un nuovo patto di programma. Allora direi, andiamo a vedere proprio all'interno di Repubblica, ecco qui, c'è l'intervista ad Andrea Orlando, che dice La fiducia non basta per governare al Premier, serve un nuovo patto di legislatura per i cucire con Italia Viva. Le parole non bastano, dovranno ammettere l'errore e garantire che non si ripeta. A Conte il compito di sciogliere i nodi risolti dalle riforme all'agenda per supportare il recovery. Questi alcuni stralci dell'intervista a Andrea Orlando. Però Repubblica ci offre la possibilità anche di approfondire il pensiero di Matteo Salvini. Controffensiva di Salvini, pressing su quattro senatori 5 stelle. Questo per evidenziare come le trattative avvengano da un lato e dall'altro. Quattro senatori 5 stelle per impedire la fiducia. Il leader della Lega, noi contattati da tanti grillini, delusi dalla maggioranza giallorossa, ma di Battista stoppa i dissidenti. È l'occasione per toglierci dalle scatole il renzismo. Allora, torniamo, torniamo, se ci riusciamo, sulle prime pagine. Andiamo a vedere adesso quella della stampa. Eccola qui, la Unione Europea, lockdown inevitabili. 12 regioni in arancione. Intervista alla commissaria europea, Chiriachides. Pfizer riduce le consegne. Intanto la Lombardia è rossa, come dicevamo, l'ira di Fontana, decisione politica. Faremo ricorso, già perché è stato preannunciato il ricorso da parte del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Sacrifici duri ma necessari, a firma di Antonella Viola, sulla prima pagina della stampa. E poi la crisi, la crisi con Conte e Zingaretti che gelano Renzi. I numeri ci sono. Il premio raccoglie i responsabili. Per un governo europeista nasce un gruppo al Senato, appunto quello di Maie Italia 23, dove dovrebbero confluire appunto i cosiddetti costruttori responsabili. Insomma, ognuno poi li definisce come vuole. Di spalla il commento di Massimo Cacciari, l'editoriale di Massimo Cacciari. Banca rotta di una classe dirigente. Il Laboratorio Italia ha dunque sfornato il suo caso più spettacolare. Nel pieno di una pandemia e di una tragica situazione economica e sociale, ha inventato una crisi di palazzo in piena regola. L'Europa osserva stupefatta e incerta. Se applaudire all'ennesimo esempio di creatività politica nostrana, campo nel quale siamo davvero sovrani, o mandare ad assisterci qualche infermiere. Questo è il commento di Massimo Cacciari. Usciamo dalla prima pagina della stampa. Vediamo oggi il messaggero, come si propone in edicola. Pfizer si ferma, allarme ai vaccini. Questo è il titolo principale, il titolo che propone oggi il messaggero. Invece per quanto riguarda la crisi di governo, Conte Ter in stallo. I responsabili costano troppo. Mastella alleati, ma non fessi. Il PD striglia il Premier. L'obiettivo Conte Ter resta in stallo dopo l'addio dei Renziani. Il reclutamento dei responsabili si rivela più problematico del previsto. Mastella alleati, ma non fessi. Il PD striglia il Premier. Naturalmente Mastella, che si è fatto promotore del reclutamento di responsabili, dice, non è che poi fate pace con Italia Viva e a noi ci abbandonate al nostro destino. Questa è la preoccupazione di Clemente Mastella. Renzi, tutti i nostri senatori compatti. Intervista al leader di Italia Viva. No al voto. Senza di noi non hanno i voti per governare. Matteo Renzi non ha dubbi. Sui numeri aggiunge, condivido tutto con Zingaretti. Io sono sempre pronto a parlare di contenuti. Questo è il passaggio iniziale dell'intervista a Matteo Renzi, che potrete trovare all'interno del messaggero. Che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Eccolo qui. Campagne acquisti, gli sms, le chisti ai 5 stelle. Mercato delle vacche. Borghi promette buoni ruoli. Renzi disperato. Tifa per Salvini. A Conte ruba tre senatori. E insomma, come dicevamo, c'è una campagna acquisti abbastanza intensa in chiave politica e non calcistica. Avvenire il primo milione in testa per numero di vaccinati in Europa, ma Pfizer rallenta le forniture. Regioni 12 in arancione, 6 zone gialle, Lombardia, Sicilia e Bolzano rossa. E questa è la scelta editoriale di Avvenire. Italia Viva pronta a rientrare. Conte tenta di farne a meno. Andiamo a vedere anche domani. Eccolo qui. La credibilità all'estero conta più delle ambizioni, ammonisce Nicola Inberti. Adesso tutti si offrono. Conte verso la maggioranza. Perfino Renzi lo aiuterà. Dopo aver aperto la crisi, il leader di Italia Viva annuncia la stenzione sul voto decisivo per far scendere la soglia necessaria alla fiducia. Nasce il gruppo dei Contiani Italia 23. Questo da domani. Inteso come quotidiano. Diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, che è naturalmente particolarmente attento alle questioni, agli sviluppi e ai riflessi di questa crisi sul piano economico, sociale ed economico. Recovery Plan, parti sociali all'attacco. Confindustria chiediamo una consultazione vera sulle modifiche per i sindacati. Passi avanti, ma va programmata una politica industriale. Von der Leyen, in pressing, procedere rapidamente per poi andare sul mercato. Ancora dalla Sole 24 Ore, cartella ai pagamenti, mini rinvio, DL ristori, rottamazione più vicina. Lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo a vedere la prima pagina, ad analizzare la prima pagina del giornale. Naturalmente io ricordo sempre, i titoli evidentemente poi rispecchiano quella che è la linea editoriale dei vari quotidiani. Costruttori di ricatti. Nasce il gruppo Maia Italia 23 per salvare Conte, ma a quota 161 al Senato ne mancano 10. Ultima giravolta, Italia Viva si astiene. Giuseppi chiude le porte, Correnzi strade ormai divise. E poi Zingaretti copia lo schema D'Alema. La scuola da ignorata ha presa per i fondelli. La scuola che rimane sempre una delle tematiche certamente più delicate, più dibattute, anche più controverse in questa fase così complicata sul piano della pandemia, che certamente ha creato problemi a pioggia. La maggioranza della riconciliazione, scrive oggi il foglio in prima pagina, nel fondo a firma del direttore Claudio Cerasa, il pallottoliere del Senato, i fili Correnzi, il CAV, e tutti i rischi di un governo che sostituisce la stabilità con la staticità. E a proposito di governo, ecco qui, ottimismo a Palazzo Chigi, il Premier mai più Correnzi, ma i responsabili vogliono il Conte Ter. Lasciamo il foglio, andiamo a vedere la prima pagina del tempo. Eccola qui. O via il recovery, o via Conte, come la Germania vede la crisi di governo. I tedeschi, dopo aver letto il piano italiano per i soldi UE, sono terribilmente preoccupati. la frase scrive Frankfurt, eccetera, eccetera, risorse buttate per comprarsi le clientele. Se è così, meglio Italia al voto. Tobias Piller, che è lo storico corrispondente tedesco in Italia, spiega perché quel documento è da riscrivere, altrimenti si perderanno i fondi. Questo è quello che ci propone oggi il tempo in edicola. Intanto aumentano i focolai Covid nella capitale, tant'è che insomma il Lazio diventerà da domani, sarà zona arancione. La verità, ecco qui, la prima pagina quotidiana diretta da Maurizio Belpietro, la crisi sulla pelle del Paese, Conte usa ristori e fisco per raccattare senatori. Il Consiglio dei Ministri non vale decreto per erogare i soldi agli esercizi chiusi e rinvia 50 milioni di cartelli fiscali di appena 15 giorni, un modo per prendere tempo e dare una giustificazione ai traditori che dovrebbero tenerlo in piedi. Chiudiamo col riformista. Ecco qui, ecco i nuovi costruttori, un parcheggio da 7 milioni per Mastella e Conte è salvo. Questa è la denuncia del riformista. Siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. Con il sottoscritto, se vorrete, ci rivediamo poi per la prima edizione del Tg da 7. Adesso Paolo Sottocolona con le informazioni meteo. Sì, buongiorno. Nella prima parte della giornata di oggi le piogge previste sono queste. Non ce ne sono molte, qualcosa di un po' più significativo fra le isole maggiori, ma nel complesso la tendenza a miglioramento al nord, al centro, almeno sulla parte tirrenica, c'è qualche precipitazione sul versante adriatico. Non molto intenso, ma lì i venti cominciano a venire da est e quindi è da lì che entra aria un po' più fredda. Vediamo nella seconda parte della giornata di oggi c'è un'attenuazione dei già deboli fenomeni, quindi la situazione va addirittura, tra virgolette, migliorando. Vediamo se si mantiene però, perché nella giornata di domenica qualcosa in più c'è. Liguria e Alta Toscana, Sardegna, Sicilia, Basso Tirreno e da est si avvicinano delle piogge o nevicate a quote basse, ma al suolo è un po' difficile, ma le temperature tendono a scendere. E arriviamo alla giornata di lunedì in cui queste precipitazioni sul versante adriatico, sul medio versante adriatico, ma anche sul basso versante adriatico, potrebbero appunto essere nevose. La quota di riferimento è intorno ai 500 metri, non dovrebbero scendere al di sotto. Qualche precipitazione anche sulle isole maggiori e invece vedete sereno, comunque, insomma, scarsità di nuvole al nord sul medio versante tirrenico e qualche schiarita c'è anche al sud. Le minime di questa mattina sono sempre piuttosto basse, siamo già in fase di nuova diminuzione delle temperature, quindi, insomma, facilmente intorno allo zero o anche qualcosa al di sotto al nord, ma anche al centro, sulle zone interne del sud, vedete questo colore che va verso il celeste, è vero che ci sono le montagne, ma per quelle zone, insomma, un po' freddo lo è. Chiudo con lo stato dei mari, ancora questo maestrale che si sta attenuando, ma a largo della Sardegna i mari sono ancora agitati, il colore rosso, molto mossi gli altri mari meridionali, non più che mossi gli altri mari per trovarli tranquilli, proprio vedete, proprio all'estremo nord dell'Adriatico, alle coste Liguri, con un moto ondoso leggermente più tranquillo. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti.